Le elezioni in Sardegna, adesso quelle in Abruzzo, è d'accordo con chi dice che qualcosa è cambiato, che è cambiato il vento, dice la Schlein? Beh, il vento è cambiato, indubbiamente, guardando i risultati elettorali il vento è cambiato, vedremo adesso i risultati in Abruzzo e poi sarà un giudizio definitivo, ma mi sembra che il vento sia cambiato, ha ragione la Schlein. Ecco, qualcuno dice, direttore, è la regola dei populisti, tanto scendono velocemente, tanto scendono velocemente. Cos'è cambiato per la destra, secondo lei? Ma per la destra è cambiato il vento, è cambiato che la gente non considera più la destra una novità, ma ha capito quali sono le magagne della destra, i pericoli di questa destra-destra che è al potere. La destra nel nostro paese c'è sempre stata, direi che con la Meloni si è un po' allargata, ma secondo me si restringerà, perché il voto di quelli che non erano radicalmente di destra è un voto molto volatile. Come ha reagito dal suo punto di vista Giorgia Meloni alla sconfitta? Alcuni dicono bene, perché il giorno stesso è andata la stampa estera, è stata in grado di scherzare, altri invece dicono è un segno di debolezza. Lei che valutazione dà del momento di Giorgia Meloni? Sbaglia a ridere, sbaglia a essere sprezzante e poi tutte quelle vocine, quelle mossette, quelle prese in giro dell'opposizione, non mi sono piaciute proprio, non mi sono sembrate serie per un Presidente del Consiglio. Lei dimentica di non essere più all'opposizione, ma di essere il Presidente del Consiglio di tutti gli italiani. Il fatto di andare alla stampa estera e riderci sopra e scherzare, mi fa venire in mente un proverbio. Ride bene chi ride ultimo. Grazie. Grazie. Grazie.